In un primo momento il ritrovamento della sua auto carbonizzata e del telefono cellulare, successivamente il rilevamento di alcune tracce di sangue non lontane dall'abitazione in via San Trifone e di altri indizi forniti dai cani molecolari in alcune contrade di campagna infittiscono il mistero a Cerignola sulla scomparsa del 32enne Gennaro Fiscarelli, già noto alle forze dell'ordine per piccoli precedenti penali. La pista maggiormente battuta da investigatori inquirenti è quella relativa ad un eventuale episodio di lupara bianca nell'ambito di un contesto legato allo spaccio di droga. A quanto si apprende, l'ultimo ad aver visto il giovane scomparso è stato un amico con il quale ha trascorso la serata di sabato 5 ottobre nella cittadina Ofantina, partecipando ad un evento sportivo. Da quella sera la sua famiglia non ha più avuto alcuna notizia e preoccupata per il suo mancato rientro nella giornata di lunedì 7 ottobre, la madre ha deciso di sporgere denuncia di scomparsa. Da quel momento è stato attivato il piano di ricerche coordinato dalla prefettura di Foggia, ricerche che si sono concentrate prevalentemente tra le contrade Scarafone e Pignatella delle campagne cerignolane, che ad oggi si sono estese per un diametro di circa 3 chilometri, con un criterio di perlustrazione a cerchi concentrici, con particolare attenzione a pozzi e anfratti.